Io stamattina sono andato a fare il pieno e ho trovato il mio amico benzinario Mi puoi essere portatore di una mia preghiera al direttore di Tele Lombardia Fabio Revezani E dico certamente ma tu sei in grado di poterlo fare o dici soltanto così di conoscere No, dico guarda sono in grado un amico, un collega ma soprattutto ho un rapporto Allora gli puoi dire per cortesia se una volta mi porta qui davanti al mio chiosco di benzina Marcello Chirico Io dico ma guarda sicuramente non ci sarebbe nessuna opposizione ma dico Viene volentieri ma dico ma per fare che cosa con il nostro amico Marcello Chirico Ma io però io mi faccio dare anche due schiaffi Dal benzinaio di benzinaio Come si chiama il benzinaio? Jacopo Poi mi faccio dare da Jacopo anche due Poi prendo casualmente mentre tu mi dai gli schiaffi e ridiamo La pompa di benzina E ti rovesse di riempio di benzina e poi casualmente ho un cerino E accendo e sto lì e rido quando tu prendi fuoco davanti alla tua pompa di benzina Così poi dopo non ci sarà più La pompa di benzina non ci sarai più Allora